Noi abbiamo in questi anni lavorato per sostenere investimenti rivolti al territorio, in particolar modo al territorio dell'Apenino centrale che è stato colpito dai sismi del 2016-2017 ma anche del 2009. Abbiamo avuto dei risultati importanti e abbiamo provato all'interno di questo sistema di sostegno agli investimenti a fare due cose molto significative. La prima è collegare la ricostruzione agli interventi che hanno a che vedere con la rigenerazione dei territori, con il sostegno alle infrastrutture e con il rilancio economico-sociale. Le imprese hanno risposto mostrando una interessante vitalità. All'interno di questi finanziamenti abbiamo cercato anche di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia circolare e alcuni interventi particolari che riguardano il settore forestale. Abbiamo visto come ci siano alcune difficoltà nell'aggregazione delle piccole e medie imprese e, come si è detto oggi, nel valorizzare quelle grandi potenzialità che questo settore, così presente potenzialmente in Italia, visto che il nostro paese è caratterizzato in gran parte da bosche e foreste, potrebbe realizzare. Bene, a nostro parere questa potenzialità è una delle tante potenzialità che il nostro paese deve sviluppare. Ed è in particolare però una potenzialità determinante per le aree dell'Appennino centrale, aree che devono tornare in ogni modo a creare quel valore, che non è solo un valore economico, ma anche un valore sociale, che per tanti anni ha caratterizzato l'Appennino. Poi abbiamo avuto i terremoti, abbiamo avuto le crisi, abbiamo avuto diverse difficoltà e quindi questa rigenerazione dei territori non può che ripartire dai territori. Noi non possiamo essere attraenti perché facciamo pagare di meno le tasse alle imprese multinazionali, non possiamo essere attraenti perché in qualche modo facciamo sconti sugli stipendi dei lavoratori o sulle condizioni del lavoro. Noi dobbiamo continuare a essere attraenti perché facciamo qualità e soprattutto perché siamo in grado di riconoscere le nostre vocazioni territoriali, il nostro genius loci, la nostra capacità di generare valore dal territorio. In questo senso tornare a dare attenzione, quindi a creare una strategia per le imprese del territorio significa anche essere molto attenti al tipo di valore, ai settori, alle caratteristiche che il nostro territorio può trasformare in ricchezza sia economica che sociale.